Anticipazioni. Terra amara. Un nuovo sviluppo emozionante si profila all'orizzonte, quando Umit confessa a Zuleya di essere incinta di Demir. Lucie decide di fare una visita a Villa Yaman, dove viene accolta con gentilezza da Demir e Zuleya. Tuttavia, la situazione prende una svolta quando Fikret fa il suo ingresso nella stanza, suscitando l'irritazione immediata di Demir, il quale giri intima di andarsene. Fikret, desideroso di porre fine alle ostilità, cerca di persuadere Demir a dimenticare il passato e a iniziare una nuova fase della loro relazione. Demir però non è disposto a fare pace, ricordando i danni causati da Fikret alla sua casa e alla sua azienda. Nonostante l'ammissione di Fikret di aver commesso errori, Demir è irremovibile nella sua rabbia. Zuleya interviene nel tentativo di calmare Demir, il quale chiede a Fikret perché dovrebbe fidarsi di lui. Fikret a sua volta condivide il suo passato di rabbia e vendetta, ammettendo di aver pagato un prezzo elevato, seppellendo «la donna che amava». Cerca di persuadere Demir che ha imparato la lezione e che ora desidera vivere per la felicità di Kerem, rifiutando qualsiasi ulteriore conflitto. Nonostante le spiegazioni di Fikret, Demir è sempre più arrabbiato e respinge l'idea di accettare le scuse. Fikret se ne va e Zuleya rassicura Lucie che discuteranno della situazione una volta che Demir si sarà calmato. Nel frattempo, Sevda rivela a Umit di essere a conoscenza del tentato omicidio orchestrato da Demir, generando paura per la propria sicurezza. Umit, tuttavia, rimane salda nella decisione di non andarsene, costringendo Sevda a fare una difficile scelta tra lei e Zuleya. Nel frattempo, Fikret si trova da solo a cullare Kerem, piangendo la perdita di Mugan. Fekeli, di fronte al ritratto di Hunkar, esprime il suo dolore per la sua assenza e dichiara che il suo amore per lei non è mai svanito. Il giorno successivo, Betul si rivolge a Sermin per ottenere chiarimenti sulla presenza dell'amante di Adnan, che «on vive con Demir». Sermin spiega che Demir ha sempre avuto cura di lei, portandola alla villa dopo la morte della madre. Successivamente, condivide i dettagli della relazione tra Demir e Umit, svelando che Zuleya aveva lasciato Demir, ma ora si sono riconciliati. Inoltre, rivela a Betul che Sevda è la madre di Umit, informazione che Demir non è a conoscenza, ma Sermin intende rivelarglielo quel giorno. Betul le consiglia di non farlo, sottolineando che detenere tale informazione è un potere che potrebbero sfruttare quando necessario. Sermin obietta, preoccupata che Umit e Sevda possano fare del male a Demir. Tuttavia, Betul non considera questo un loro problema e chiede a Sermin se ha capito il motivo del suo ritorno a Kukurova. Nel frattempo, Kumali nota con interesse Uzum mentre si dirige a scuola e la ferma. Chiede alla bambina se lo riconosce, ma Uzum risponde negativamente. L'uomo si toglie il cappello e le chiede di guardarlo attentamente, ma Uzum continua a non riconoscerlo. Zuleya, a bordo della sua auto, viene seguita da Umit, che, con una manovra audace, la costringe a fermarsi. Chiede a Zuleya cosa voglia e Umit, con aria soddisfatta, le rivela di aspettare un bambino da Demir. Zuleya respinge l'asserzione, ma Umit, toccandosi la pancia, le conferma la gravidanza di quattro mesi, annunciando la felicità di Demir per diventare padre di tre figli. Umit chiede a Zuleya di congratularsi, ma lei è scioccata. Umit mente, dicendole che lei e Demir avevano discusso di questa possibilità e che Demir non permetterà a Zuleya di tenere il bambino. Saranno loro a crescerlo insieme ai suoi fratelli. Con freddezza, Umit avverte Zuleya che Demir prenderà il bambino, suggerendo che se smetterà di disturbarli, forse potrà vederlo di tanto in tanto. Mentre Zuleya riprende la marcia con l'auto, le lacrime iniziano a sgorgare. Nel frattempo, alla villa, Sanye nota Kumali parlare con Uzum e si avvicina rapidamente. Dopo aver mandato la bambina a scuola, chiede a Kumali. Di cosa stessero parlando? Kumali scherza, affermando che discuteva di questioni scolastiche, poi si allontana, sostenendo di dover lavorare. Zuleya rimane perplessa. Zuleya, visibilmente sconvolta, attira l'attenzione di Sevda, che le chiede cosa sia successo. Piangendo, Zuleya racconta che Umit le ha detto che è incinta, e di come lei li perseguiti incessantemente. Le rivela di avergli mentito, dicendogli di aver discusso con Demir di questa possibilità. Ora capisce da dove Umit tragga il coraggio, e teme che la situazione non avrà mai fine. Sevda promette di parlare con Umit e di convincerla ad abortire, ma le chiede di non dire nulla a Demir. Sanye nel frattempo distribuisce gli stipendi ai lavoratori, e nota che la paga settimanale di Kumali è di one hundred liar, anziché seventy, come per Ghali altri operai. Chiede a Ghaffur il motivo, e lui, barcollando nelle spiegazioni, menziona un anticipo richiesto da Kumali per problemi familiari. Sanye accetta, ma avverte Kumali che la prossima volta... A riceverà solo forti lire! Demir, dopo aver ricevuto documenti da Erjan, torna a casa furioso. Informa Sevda che Zuleya ha venduto il 25% delle azioni dell'azienda a Kemal. Quando affronta Zuleya, le chiede il motivo della vendita. Zuleya risponde di averlo fatto per il futuro dei suoi figli, desiderando andarsene con loro dopo il tradimento subito. Demir la rimprovera, definendo l'atto un altro errore, ma Zuleya ribatte, dichiarando che non è un errore ma un tradimento. Afferma che lo rifarebbe considerando tutto il dolore sopportato, dimostrando che non le importa dell'azienda o dei soldi. Demir concorda, ma esprime il desiderio che non lo avesse fatto. Poi le chiede chi sia Kemal e come lo abbia trovato. Zuleya spiega che è un avvocato di Istanbul che operava per un cliente, ma lei non sa chi sia. Demir dichiara la sua intenzione di andare a Istanbul per riacquistare le azioni, anche se ciò comporterà un costo elevato. Sermin si trova al bar con Betul, la quale esprime il desiderio di... conoscere Umit e capire come sia riuscita a sedurre Demir. Sermin le chiede se l'ex marito le paga gli alimenti, ma Betul risponde negativamente, poiché ha optato per una liquidazione. Notano Umit avvicinarsi in macchina e improvvisamente Betul si posiziona nel mezzo della strada, fingendo di svenire per poter incontrare Umit. Sermin accorre da lei e Umit si ferma per soccorrerla. Dopo un breve periodo, Betul finge di riprendersi da un malore e Umit si offre di portarla in ospedale per dei controlli con la sua macchina. Sermin commenta con Umit sulla fortuna di avere qualcuno presente in quel momento. Arrivate in ospedale e dopo esami negativi, Sermin rivolge la parola ad alta voce a Betul, suggerendo che chiederanno a Demir di portarla in un ospedale di Istanbul. Betul risponde sottolineando che Demir si preoccupa solo di se stesso e di Zuleya. Successivamente, Betul esprime a Umit la felicità di averla conosciuta e menziona che sua madre ha parlato molto di lei. Sermin aggiunge che la figlia ha studiato legge alla Sorbona di Parigi e Umit rivela di aver studiato in Germania. Betul osserva che anche Demir si è laureato lì. Mentre Betul se ne va, esprime il desiderio di poterla rincontrare. Dopo l'uscita dall'ospedale, Sermin chiede a Betul del finto svenimento, preoccupata per la sua salute. Betul risponde che era una messa in scena e scherza sul fatto che avrebbe dovuto fare l'attrice invece dell'avvocato. Aggiunge che presto diventeranno amiche e sottolinea la sua convinzione che Umit non lascerà andare Demir. Sermin risponde che va bene, perché anche lui deve soffrire. Demir si trova ad Istanbul e si reca all'indirizzo dell'avvocato, ma il portiere del palazzo, Gili, comunica che l'avvocato è andato via e nessuno sa dove si trovi. Viene descritto come un individuo strano ed è stato espulso dall'ordine degli avvocati. Nel frattempo, Umit ritorna nella sua camera d'hotel, dove trova Sevda. Quest'ultima le esprime la sua gioia per la maternità imminente di… Umit, ma quest'ultima risponde freddamente che non sono affari suoi. Sevda l'avverte che Demir non permetterà a Umit di tenere il bambino, ma Umit ribatte che lo farà nascere contro la sua volontà e che Demir non può farle nulla. Sevda la mette in guardia sul fatto che Demir è un uomo molto potente e le propone di andarsene insieme per iniziare una nuova vita. Tuttavia, Umit risponde freddamente che non vuole vivere con Sevda, ma con Demir, e che Demir lascerà sua moglie per crescere il bambino insieme. Sevda ribatte che Demir non lo farà mai, ma Umit sostiene di non volerla nella sua vita. Così la caccia dalla camera. Nel frattempo, Zuleyha telefona a Sadi, comunicandogli che Demir è ad Istanbul per recuperare le azioni, ma l'avvocato acquirente è irraggiungibile. Sadi ammette che sono stati ingannati e si scusa, ma Zuleyha lo incolpa per la fretta di vendere. Demir bussa alla porta di Sadi, sospettando che l'acquirente sia Fikret in collaborazione con Umit. Sadi offre il suo aiuto a… Demir per recuperare le azioni. Quando Sevda torna a casa, mente a Zuleyha, dicendo di non aver trovato Umit in hotel né in ospedale. Zuleyha commenta che sta scappando da Demir, temendo che la costringerà ad abortire, e che uscirà allo scoperto quando non sarà più possibile. Sevda risponde che forse Umit se n'è andata, ma Zuleyha non ci crede, e afferma che non permetterà a Sevda di distruggere la sua famiglia. Il giorno seguente, Fikret è in azienda quando Demir arriva, e Gili chiede cosa stia facendo. Fikret risponde che non sta facendo nulla perché non ha più problemi con lui e con suo padre. Demir non gli crede, lo accusa di aver acquistato le azioni della sua società con l'aiuto di un avvocato corrotto, ma Gili promette che se le riprenderà. Zuleyha va a trovare Gulten, e le chiede di tornare a lavorare alla villa. Gulten le spiega che le vuole bene, ma non può tornare. Zuleyha le racconta della gravidanza di Umit e del suo intento di distruggere la sua famiglia. La prega di non lasciarla sola e di essere la sua amica, soprattutto per poter difendere i suoi figli. Più tardi, Zuleyha torna alla villa con Gulten, accolta calorosamente da Sanye e Fadik. In quel momento, Demir rientra, e vedendo Gulten, chiede a sua moglie se l'ha riportata alla villa. Zuleyha risponde affermativamente, chiedendogli se ha obiezioni. Demir le risponde di no, sottolineando che ha fatto bene. Zuleyha Gly spiega che Gulten è un'amica, e Gili chiede di trattarla bene. Demir le risponde che quando l'ha mandata via, era arrabbiato per la sua fuga. Successivamente, Demir informa Zuleyha che Fikret nega di aver comprato le azioni, ma lui non le crede. Zuleyha suggerisce di rimanere calmi e afferma che scopriranno la verità. Demir, tuttavia, afferma che non può essere calmo, poiché non possiede più il 25% della sua azienda. Zuleyha ipotizza che Fikret stia cercando di diventare proprietario della loro azienda, ma Demir promette che lo impedirà. Zuleyha ammette di essere stata impulsiva a vendere. Le azioni, ma sottolinea l'importanza di rimanere calmi e forti di fronte ai nemici. Demir, commosso, la accarezza e le dichiara il suo grande amore. Più tardi, Demir si trova davanti alla tomba di suo padre e vede Fikret con Kerem dirigersi verso la tomba di Mushgan. Demir li segue e, nascosto dietro un albero, sente Fikret rivolgersi a Mushgan dicendole che le manca sia a lui che a Kerem. Fikret ricorda le parole di Mushgan sull'abbandonare l'odio per scegliere l'amore. E ora la cosa più preziosa che Gli è rimasta è Kerem, a cui dedicherà la sua vita. Demir, dopo aver ascoltato queste parole, se ne va. La sera stessa, Lucie informa Fekeli che ci sarà l'inaugurazione della fondazione benefica a nome di Hunkar. Fekeli le risponde che non si sente di partecipare, ma Lucie decide di andare da sola per dimostrare che cercano pace e amicizia, non ostilità, e giustifica la sua assenza al circolo con una scusa. All'inaugurazione, tra i numerosi notabili, compare anche il governatore che… Congratula sia Demir che Zuleya per l'iniziativa in nome di Hunkar Yaman. Presenti anche Sermin e Betul, che si posizionano vicino a Sevda. Betul, alzando la voce per farsi sentire da Sevda, afferma che Demir e Zuleya sono una coppia molto innamorata. Lucie arriva all'evento, ed Demir le chiede scusa per il suo comportamento precedente. Lei risponde che vivranno insieme giorni migliori. Nel frattempo, Fekeli rimasto a casa, seduto davanti al quadro di Hunkar, afferma che quella sera tutta Kukurova si ricorderà di lei e della sua generosità verso i bisognosi. Esprime il desiderio che se lei fosse lì potrebbe sopportare meglio dolore e sofferenza, ma la sua mancanza si fa sentire profondamente. Terminano così queste anticipazioni. Se sei curiosa di scoprire cosa succederà nelle prossime puntate, scrivi sì nei commenti. E presto uscirà un nuovo video. Alla prossima!